Sarà l'effetto estate, la voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza senza preoccuparsi troppo del portafogli, ma la fiducia dei consumatori ad agosto è aumentata. Lo rileva l'Istat che certifica una crescita dell'indice del clima di fiducia del 3,7%. Lo stesso non si può dire delle imprese che registrano invece un calo dello stesso indice dell'1,4%. In particolare nelle imprese manufatturiere peggiorano i giudizi sugli ordini, mentre rimangono stabili le attese sulla produzione e i giudizi sulle scorte. Più in generale, secondo l'Istat, sono positivi sia i giudizi sia le attese dei consumatori sull'attuale situazione economica del Paese e diminuiscono anche le prospettive di disoccupazione. Il ritorno ad un clima di fiducia è confermato anche dall'aumento della percentuale degli italiani che hanno scelto di andare in vacanza, l'8% in più rispetto al 2014. E' destinato a pesare sul dibattito politico delle prossime settimane invece l'errore ammesso dal ministro del lavoro Poletti nei dati diffusi dallo stesso ministero sulle attivazioni e cessazioni di contratti riferiti al periodo gennaio-luglio di quest'anno. Un errore umano, ha dichiarato il ministro, secondo cui però nella sostanza ci sarebbe una conferma dell'incremento dei contratti stabili e il crollo delle collaborazioni. E a proposito di lavoro, l'Istat ha diffuso anche l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie di luglio che sarebbe cresciuto dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell'1,2% su base annua. Complessivamente, secondo l'Istituto di Statistica, nei primi sette mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,1% rispetto al corrispondente periodo del 2014.